Sono in grado di allestire in tempi rapidissimi ospedali da campo, pregno ospedale, posti di soccorso specializzati e sono anche designati servizi di protezione civile, queste sono le crocerossine, le infermiere volontarie della Croce Rossa hanno anche loro partecipato a bordo della portaerei Tavur alla missione umanitaria di Haiti. Le infermiere volontarie della Croce Rossa hanno la bandiera che fu conferita loro nel 1984 dal Presidente Pertini. Questa Croce Rossa ha un effetto che le contraddistingue, l'inversione dei colori della bandiera federale svizzera dove la Croce Rossa nacque appunto. E parteciperono alla prima missione in Libano negli anni Stato. Avevano loro battesimo del fuoco nel 1915 durante la prima guerra mondiale. TANTO CANTO Grazie a tutti.